Il riconoscimento odierno ci emoziona ma allo stesso tempo ci entusiasma. Siamo assolutamente gratificati da un percorso di piano industriale che ci ha visti i protagonisti e l'esperienza stessa di azienda di elite borsa italiana ha fatto in modo di consolidare quello che è stata la crescita manageriale, la crescita in termini di risultati, l'evoluzione della governance aziendale. Il posizionamento del brand con una reputazione che è diventata sempre più spinta a livello internazionale ha favorito quella che noi abbiamo definito l'emancipazione di tutte le funzioni aziendali nella ricerca di una vicinanza sempre più profonda con i nostri clienti. Gli investimenti sempre più ingenti a livello di new subsidiaries nel continente americano o in Asia e i nuovi contratti di collaborazione sempre più strutturati con gli agenti hanno permesso di creare una capillarizzazione molto forte. Quello che noi riteniamo essere stata la base anche del successo degli ultimi anni è la ricerca del cosiddetto concept del Technology Solution Provision cioè la volontà di riuscire a creare un coinvolgimento forte delle funzioni strategiche affinché vivessero l'esperienza col cliente. I nostri uffici tecnici, la progettazione, l'after sales assieme alla forza commerciale sono divenuti parti attiva per coltivare quello che è un dialogo profondo per la ricerca di nuove soluzioni operative, nuove soluzioni tecniche con i nostri clienti. Tutto questo, siamo certi, ha contribuito a creare il successo degli ultimi anni e che ha creato effettivamente un forte valore, una forte relazione di lungo periodo con i nostri clienti.